... Lascia partire il tiro, traversa! C'è un carterino giallo per Son, intervento sopra le righe e non poteva sperare di passare la liscia. Balla sulla traversa, poi ancora in campo! Perico può far male da lì! Vinicius Junior, ci ha pensato lui! Sono golli e gol, Piero. Questo è un super gol. Immagini, parlano chiaro. Libera il tiro. Vinicius Junior! Gli avversari. Può contare sull'aiuto dei compagni. Parte il tiro! Rete! Splendida Rete! Attenzione, passa il difensore! Si fa saltare troppo facilmente. Ecco il tiro! Vinicius Junior! Va in porta! Vinicius Junior! Ci ha pensato lui! Ha spedito la palla in rete con questa conclusione che stiamo rivedendo, bellissima. Una volée che non ha lasciato scampo al portiere. Nuovo possesso per gli avversari. Prova! Super gollini! Dice di no! Occhio a Tiago Scantara! Ha staccato più in alto di tutti su questa cross e l'ha messa alle spalle del portiere. Perde un pallone pericoloso. A spazio prova! Vinicius Junior! Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. Non è solo qui. Aspetta la conclusione. Vinicius Junior! Buon recupero del pallone. Possono ripartire. La gioca profonda. Vinicius Junior! Ci ha pensato lui! Gol incredibile che merita di essere rivisto. In pochi credo si aspettassero che calciasse da quella distanza. Trova! Ecco il gol! Prova la botta! Vinicius Junior! Ci ha pensato lui! Noi! Ti� mi faccio! Noi!